solita faticaccia per la juventus che riesce a battere 1 a 0 lo spezia allo stadium il gol decisivo è di alvaro morata che si prende un bel 6 e mezzo perché non soltanto realizza la rete della vittoria ma anche perché fa tanto lavoro sporco per la squadra si sacrifica in copertura interrompe azioni importanti dello spezia con i suoi ripiegamenti insomma complimenti allo spagnolo che a dirla tutta si mangia un gol clamoroso nel nel finale forse più facile di quello che aveva realizzato nel primo tempo benissimo locatelli davvero bene l'ex sassuolo 7 per lui smista il pallone con lucidità anche in interdizione si fa trovare pronto e soprattutto serve a morata l'assist per il gol vittoria ma luccio vlaovic oggi un po in ombra 5 e mezzo per lui non riesce mai ad incidere bene quadrato 6 e mezzo male bernardeschi quando è entrato quasi mi dimenticavo della sua imbarazzante mediocrità poteva tranquillamente restarsene seduto in panchina nessuno se ne sarebbe accorto anzi sarebbe stato meglio bene anche scesni che fa un paratone nel finale blindando il preziosissimo risultato e bene anche danilo 6 e mezzo per lui 6 e mezzo anche per delict senza voto ken entrato nel finale al posto di vlaovic male come al solito rabbiò 5 per lui non capisco ancora perché si continui ad insistere sul francese davvero davvero non all'altezza di questa maglia non all'altezza probabilmente neanche del campionato di serie a insomma non all'altezza di questo sport potrebbe darsi tranquillamente all'ippica grazie a tutti